I consiglieri di minoranza di Agropoli, Abbate e Caccamo, dopo un anno e mezzo di continue richieste e legittime contestazioni, prendono definitivamente atto che con questa maggioranza consigliare non ci potrà mai essere dialogo finalizzato alla crescita sociale ed economica della città di Agropoli. La partecipazione alle commissioni consigliarie è stata sempre inutile in quanto le stesse non sono mai state in una libera articolazione del Consiglio Comunale e tantomeno lo sono oggi, laddove i due terzi dei consiglieri di maggioranza sono detentori di deleghe specifiche e settoriali, sottratte agli assessori ed assegnate ai richiamati consiglieri. Prendiamo perciò atto della completa inutilità di queste finte ed alterate commissioni consigliari totalmente prive di significato e questa una maggioranza politico-amministrativa che non merita alcuna collaborazione istituzionale nella fase di indirizzo consigliare ma solo un costante e continuo controllo sulle attività svolte ed eseguite e questo il nostro ruolo fanno sapere i consiglieri d'opposizione Consolato Natalino Caccamo e Agostino Abate riconosciuto dalle normative vigenti che eserciteremo con tanta dedizione e nell'interesse supremo dell'intera città. Non abbiamo mai sopportato le parvenze di legalità nelle assunzioni, negli incarichi, nelle gestioni di associazioni e cooperative, nella redazione di atti di programmazione territoriale, economica ed assistenziale. Informeremo continuamente i cittadini e le istituzioni sui risultati delle nostre legittime attività di controllo, assumendoci tutte le responsabilità che conseguiranno sia le richiamate informazioni e sia le modalità delle stesse. Auguriamo a tutti i cittadini di Agropoli, concludono i due consiglieri, un felice anno nuovo che ci vedrà ancora più interessati a far emergere la verità sull'ospedale, sulla legalità delle assunzioni e sulla capacità di gestione settoriale, turismo, commercio e tanto altro ancora.